Grazie a tutti In Galati capitolo 5 leggeremo dal verso 19 al verso 25 Stasera parleremo di lavori in corso Lavori in corso Galati capitolo 5 dal verso 19 Galati 5 verso 19 Sta scritto ora Le opere della carne sono manifeste, sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia E fino a qua tutti quanti in maniera naturale pensiamo appunto Naturalmente alle opere, quelle sono le opere palesi della carne Ma c'è qualcosa che potrebbe toccarci un po' più da vicino Continua con Inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachiezze, gozzoviglie e cose simili a queste Quindi ovviamente la lista non finisce qui Cose simili a queste Cose simili a circa le quali vi prevengo Dice l'Apostolo Paolo Come vi ho già detto prima Che coloro che fanno tali cose Non erediteranno il regno di Dio E il verso 22 che noi conosciamo benissimo Ma il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo Contro tali cose non vi è legge Ora quelli che sono di Cristo Hanno crocifisso la carne Con le sue passioni e le sue concupiscenze Se viviamo per lo spirito Camminiamo altresì Per lo spirito Non siamo vanagoloriosi Provocandoci e invidiandoci Gli uni gli altri Sono andato giusto un verso oltre di quello che vi avevo preannunciato Ma male non ci fa Amen Adesso vogliamo Dato che siete in piedi Vi tengo in piedi Così bruciate qualche calorie in più E magari si pone un po' più di attenzione alla lettura Giovanni capitolo 15 Leggeremo dal verso 1 al verso 8 E poi Il verso 16 Giovanni 15 Dal verso 1 Queste sono parole di Gesù Il quale dice Io sono la vera vita e il padre mio è l'agricoltore Ogni tralcio che in me non porta frutto Lo toglie via Ma ogni tralcio che porta frutto Lo monda O lo pota In termini un po' più Moderno Affinché ne porti ancora Di più Voi siete già Mondi a motivo Della parola che vi ho annunziata Dimorate in me E io dimorerò in voi Come il tralcio Non può da sé portare frutto Se non dimora nella vita Così neanche voi Se non dimorate in me Io sono la vita Voi siete i tralci Chi dimora in me E io in lui Porta molto frutto Poiché senza di me Non potete far nulla Se uno non dimora in me E' gettato via come il tralcio E si secca Poi questi tralci si raccolgono Si gettano nel fuoco E sono bruciati Se dimorate in me E le mie parole dimorano in voi Domandate quel che volete E vi sarà fatto In questo è glorificato il Padre mio Che portiate molto frutto E così sarete Miei discepoli Verso 16 Non voi avete scelto me Ma io ho scelto voi E vi ho costituiti Perché andiate E portiate frutto E il vostro frutto Sia duraturo Affinché qualunque cosa Chiederete al Padre nel mio nome Egli Ve la dia E leggiamo pure il verso 17 Questo vi comando Che vi amiate Gli uni Gli altri Amen Che vi amiate Gli uni Gli altri Vogliamo pregare ancora una volta insieme Signore Gesù Rendici sensibili Alla tua voce In questa sera Signore Sì o Signore Parla ad ognuno Dei nostri cuori Dal più grande Al più piccino Nel nome di Gesù Cristo Noi preghiamo Signore Grazie per la tua parola Nel nome di Gesù Amen Facciamo ancora un applauso Di lode Ringraziamento Al nostro Signore Grazie a tutti Amen Amen Dio vi benedica Potete accomodarvi Se volete Qualcuno ride Perché ovviamente tutti sempre vogliono accomodarsi Lavori in corso Lavori in corso Una buona parte di noi Per quello che io riesco a vedere E per quelle che sono ovviamente le mie conoscenze Credo che ci conosciamo più o meno abbastanza bene Seppur in maniera piuttosto generale Però in buona parte Qui siamo visi che ci conosciamo da un bel po' di anni Quindi farei prima a fare la domanda al contrario Chi non ha mai ricevuto Il dono dello Spirito Santo Non è nato di nuovo di acqua e di spirito Dai più piccini Al più grande Tony Junior Ivan Daniel Ricordami il tuo nome Josue Vedo un'altra mano alzata lì in fondo E so che ci sono per certo Almeno altri due Giovani ragazzini Che non sono mai nati di acqua e di spirito Quindi siamo Sono circa sette Più o meno Sette, otto persone Per il resto Grazie a Dio Siamo tutti nati di nuovo di acqua e di spirito Ma a voi che non siete nati ancora Di acqua e di spirito Spero innanzitutto A prescindere dalla vostra età Che sia un vostro vivo desiderio Perché la promessa è anche per voi Non ha importanza Quanto piccoli siete La promessa Ivan Di ricevere lo Spirito Santo È anche per voi Che siete un po' più piccini rispetto a noi Amen Non ci sono Ovviamente È importante Che i nostri bambini Perché ci sono bambini Che già Cinque, sei, sette anni Ricevono lo Spirito Santo Ma è importante Che abbiano Una comprensione Una buona comprensione Di quello che è lo Spirito Santo Affinché loro abbiano Questa comprensione È necessario il lavoro Dei genitori Se non hai mai insegnato Papà, mamma Uno studio biblico Ai tuoi figli Beh E hanno capacità Di intendere Di volere Quindi Non hanno Due, tre anni Ora non parlo Neanche di maggiorenni Perché quello Si intende Totale capacità Di intendere Di volere A diciotto anni Ma già Questa capacità La si ha prima Anche se i tempi Fanno sì Che queste nuove Generazioni Abbiano Capacità Di intendere Di volere Un po' più avanti Ma questo non è colpa Loro È sempre colpa Dei genitori Perché facilmente Si addossa La colpa Agli altri La colpa È degli insegnanti La colpa È Dei compagni Di classe La colpa È Dei loro amici O di questo O di quell'altro Di questa situazione Di qua Di là Ma nella stragrande Maggioranza dei casi La colpa È dei genitori E tutti quanti noi A prescindere Dalla fase Della vita In cui ci ritroviamo Perché c'è chi È ancora Solo un figlio C'è chi è Un partner C'è chi è Genitore C'è chi è Nonno C'è chi è Bisnonno O bisnonna Quindi Ma ognuno di noi Nella fascia Di vita In cui si ritrova Deve assumersi Le proprie responsabilità Amen E i cristiani Soprattutto i cristiani Dobbiamo essere conosciuti Per quelli che si prendono Le proprie responsabilità Non dobbiamo fare A scaricabarile Quindi la promessa È per voi E io L'anno scorso Mi sono sentito Di cominciare A preparare il terreno È una Una sera d'estate Una di quelle sere Sapete un po' calde In cui si rimane Fino a tardi Magari fuori Per chi ha la possibilità Un balcone Qualcosa Un terrazzino Dove poter restare fuori E godere un po' Della frescura Della sera Già l'avevo Prenunciato A mio figlio E lui Per un motivo L'altro Si erano posticipati I tempi Che gli avrei voluto Fare uno studio biblico Lui mi diceva Papà quando me lo fai Lo studio biblico E quindi finalmente Una sera d'estate Dell'anno scorso Abbiamo fatto Uno studio biblico E gli ho parlato Intorno alla nuova nascita Cercando di Esporgli in maniera Quanto più semplice Cosa sia la nuova nascita E questo è fondamentale Ripeto Se non l'avete mai fatto Fatelo Papà e mamma Fatelo Cominciate a fare a casa Quello che dovremmo fare Su larga scala Perché verrà il tempo In cui non basteranno Gli addetti Che possono fare Studi biblici Cominciamo a prepararci per questo Cominciamo a prepararci per questo Perché ci vorrà Bisogno Ci sarà bisogno Avremo bisogno Di più Diciamo pure Più manavvalanza Non è una cosa Riservata Per poche persone O per chi è coinvolto In una cosa Piuttosto che un'altra Questa è una cosa Che dovrebbe essere Capace di fare Chiunque di noi Seduto Tra questi banchi Insegnare un semplicissimo Non bisogna essere Pastorio Assistente pastori Con una sorta di tesserino In tasca Per insegnare Uno studio biblico No Questa dovrebbe essere La capacità Di chiunque noi Poter fare Un semplice Studio biblico Intorno Alla nuova nascita Proprio sono Pochissimi riferimenti Non c'è da essere Teologi C'è chi pensa Di dover Avere una laurea In teologia Per poter fare Uno studio biblico No Ma se avete Sperimentato Già la nuova nascita Siete ripieni Di spirito santo Avete mantenuto Dovreste essere In grado Di insegnare Uno studio biblico In qualsiasi momento Anche se non vi ricordate I riferimenti Biblici Precisi Qual è Il capitolo Il versetto Il libro in cui si trova Dovreste conoscere Perlomeno le scritture A cominciare Da quando appunto Gesù Disse a Nicodemo Chi Non è nato Di nuovo Di acqua E di spirito Non potrà Entrare Nel regno Dei cieli Amen Nascita di acqua E di spirito Quindi Tutti quanti noi Dovremmo avere Questa capacità E grazie a Dio Una buona parte Di noi Abbiamo ricevuto Il dono Dello spirito santo Con l'evidenza Iniziale Evidenza iniziale Pongo enfasi Su questo E porrò enfasi Su questo Per il resto Della serata L'evidenza iniziale Del parlare In altre lingue Secondo E qua Mettiamo Ancora più Enfasi Secondo Che lo spirito Dà ad esprimersi E non c'è Nessuna Nessuna Nessun Trucco O chissà Quale strategia Per poter Arrivare A ricevere Lo spirito santo Perché lo spirito santo Lo si riceve In un solo modo Innanzitutto È necessario Il pentimento Senza il quale Nessuno Nessuno Può ricevere Lo spirito santo Pentimento Ravvedimento È quel passo Iniziale Che è assolutamente Necessario Affinché Chi vuole Ricevere Lo spirito santo Lo riceva Perché se non ti ravvedi E il ravvedimento Non è un qualcosa Che noi pronunciamo Solo a parole Oh signore Perdonami Per i miei peccati Per questo 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 Altro Riempimi Con lo spirito santo No Non è Una Semplice Confessarlo O pronunciarlo Con le nostre labbra Ma è una seria Intenzione Di voler dare Una svolta Alla nostra vita Perché la svolta Nella nostra vita Non avviene Se non lo vogliamo Noi Dobbiamo volerlo Noi E quindi Quando Dio Vede la sincera Il sincero Desiderio Nell'individuo Di Di voler Cambiare Di voler dare Una svolta Alla propria vita E allora Che Dio Riempie con lo spirito santo Delle volte ci si pone La domanda Ma come mai Questo fratello Questa sorella È da anni 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 Che Cerca Lo spirito santo Lo spirito santo E Dio Non lo riempie Dio Non ha riguardo Per la qualità Delle persone Non è perché Quello è alto È bello O l'altro È basso È brutto Che a quello Lo riempie E a quello No No Dio vede la condizione Del cuore Noi vediamo La parte esterna E giudichiamo In base a quello Che vediamo Fuori Ma Dio vede Molto più là Lui vede Dentro il nostro cuore Quindi Se è da tanto Che cerchi Lo spirito santo E Dio Non ti riempie Evidentemente C'è un qualcosa Nella tua vita Che ancora Non va Devi Decidere Di fare Una svolta A 180 gradi E cambiare Stile di vita Devi Ravvederti E a quel punto Dio Non tratterrà Il suo spirito Dall'essere versato Anche nella tua vita Ma è pronto A farlo Amene È pronto a farlo E quale momento Meraviglioso Quel giorno In cui noi Siamo stati Riempiti Con lo spirito santo Sicuramente Tutti quanti voi Ricorderete Il giorno La sera O la mattina In cui Il luogo Dove Dio Vi ha riempiti Con lo spirito santo È una Una sensazione Che non si può Descrivere Amene Perché Non è altro Che Dio In noi Dio che Ci riempie Con la sua presenza Nella nostra vita Perché Fino a quel momento Magari abbiamo Sentito la presenza Del Signore Ma non l'abbiamo avuta Dentro di noi Ma quando Dio Ci riempie Con lo spirito santo Significa che appunto La sua presenza È dentro di noi È dentro di noi È l'evidenza Iniziale Che ci fa capire Quando una persona Riceve lo spirito santo È solo uno Ovvero Il parlare In altre lingue Secondo Che Lo spirito Dà ad esprimersi Non c'è Una parola Che deve essere ripetuta Ad una certa velocità E poi si giunge A ricevere lo spirito santo Perché c'è C'è chi crede In queste cose Ripeti Alleluia 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 Fino al punto Che poi La persona Comincia Allallare Lalalalalalalala Ha ricevuto Lo spirito santo No Quello non è Lo spirito santo O Abbabbare No Quello non è Lo spirito santo Addirittura C'è chi In altri contesti Grazie a Dio Non è il nostro Insegna A parlare In altre lingue E questa è una cosa diabolica. Ci si concentra su quella che dovrebbe essere l'evidenza iniziale, ed è l'evidenza iniziale in coloro in cui viene versato lo Spirito Santo, ma non leggono la scrittura per intero, secondo che lo Spirito dà ad esprimersi. Qualcuno addirittura parla di canto in lingue, questo non ha alcun fondamento biblico, di alcunché, non si può insegnare alla persona a parlare in lingue, questo non è da parte di Dio. Basta andare a leggere il Libro degli Atti e lo troveremo che a partire dal capitolo 2, nel giorno della Pentecoste, quando ci fu quel suono di vento impetuoso che riempì quell'alto solaio dove erano riuniti, e non per giocare a carte, non per giocare a tombola o a monopoli, o per passarsi il tempo insieme perché Gesù gli aveva detto state a Gerusalemme, non vi muovete da là fino a quando non ricevete la promessa. No, non erano lì così, erano lì in preghiera, aspettavano la promessa in preghiera. Sai, la promessa non avrà luogo nella tua vita se non vi è preghiera. Lo Spirito Santo nel giorno della Pentecoste non sarebbe stato riversato se non fossero quei circa 120 riuniti a pregare. Fu proprio nel bel mezzo della riunione di preghiera di quei circa 120 che vi fu una manifestazione particolare, lingue come di fuoco che si cominciarono a appoggiare su tutti i presenti e cominciarono a parlare in altre lingue, dice secondo che lo Spirito, e parliamo ovviamente dello Spirito di Dio, non dello Spirito dell'Omai, ma secondo che lo Spirito dava ad esprimersi e parlavano e profetizzavano delle cose grandi di Dio. Infatti tutti quelli che udirono quel suono particolare si domandarono in giro per la città, si domandarono ma cosa sta succedendo e si recarono presso quel luogo e cominciarono a sentire le persone parlare delle cose grandi di Dio nella loro lingua. Quindi non era un qualcosa di inventato, una frase inventata, imparata a memoria, che assomiglia come a qualcuno che parla in altre lingue. No, 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 era secondo che lo Spirito dava ad esprimersi. Quindi non c'è nessuna formula magica, non c'è nessuna parola che se si ripete a velocità si riempie, semplicemente è necessario il ravvedimento innanzitutto e poi basta cominciare ad aprirsi a Dio, a lodare Dio e Dio prenderà il controllo della tua lingua. Dio prenderà il controllo della lingua, quindi non sarai più tu a manovrare la lingua mentre stai lodando Dio, ma sarà Dio a prenderne il controllo e vi sarà lì l'evidenza iniziale che Dio ti ha battezzato con lo Spirito Santo. Alleluia! Ed è la cosa più bella che possa succedere nella nostra vita, non c'è cosa più grande. Oh sì, ma se io vincessi quei 200 e passa milioni che ha vinto quel tizio che ha aspettato pure un po' di mesi a Super Enalotto, perché non l'avesse saputo, c'è stato qualcuno quest'estate, credo sia stato, che ha vinto 200 e passa milioni a Super Enalotto con una schedina di 2 euro. Ah, quello sì che sarebbe un bel giorno, meraviglioso, indescrivibile, ma lasciamo perdere queste cose. La cosa più bella che si possa sperimentare nella vita è ricevere Dio nella propria vita. Queste cose sono passeggeri, sfumano, vengono corrose dalla ruggine, si dissolvono. Quello che ha importanza è la nostra anima, è la nostra anima e quello è un grande. Quindi chi è che non l'ha ricevuto, cerchi la faccia di Dio, si ravveda dei propri peccati e Dio è pronto a spandere il suo spirito in qualsiasi momento, perché sapete che questo può succedere in chiesa, come a casa o in qualsiasi parte, dove c'è un cuore compunto, un cuore che è ravveduto, è pentito dei propri peccati, non ha importanza il luogo, Dio lo farà, c'è chi ha ricevuto lo spirito santo a casa. Poi chiaramente è necessario che venga confermato anche dal ministro, dal pastore, in chiesa, ma certe cose ovviamente sono più che palesi in base a quello che viene raccontato di volta in volta, perché inventarsi che si è ricevuto lo spirito santo veramente non serve a niente. Perché sapete non si può prendere in giro, Dio innanzitutto non si può prendere in giro. Partiamo da questo punto e poi sapete una cosa? Chi è pieno di spirito santo, quando viene detta una bugia colossale di queste proprie dimensioni, percepisce che c'è qualcosa che non va. Amen. Percepisce. E poi, perché noi spesso in maniera automatica ci si concentra su quella che è l'evidenza iniziale o l'esperienza iniziale, la nuova nascita, quando si è ricevuto lo spirito santo, si è battezzati in acqua, si è nati appunto di nuovo di acqua e di spirito, in altre parole si è dato alla luce un nuovo bambino o una nuova bambina spirituale. E qualsiasi nascita, parlando fisicamente, la nascita di un feto che viene fuori al mondo, che poi viene chiamato bambino o bambina, e non ci sono vie di mezzo, perché il DNA è quello. Non esiste il DNA di mezzo della specie umana ibrida, no. Si nasce o maschi o femminucce. Quando nasce questa meravigliosa creatura è un momento di gioia. Chi è genitore sa quello di cui sto parlando, a prescindere delle complicazioni che magari di caso in caso si possono vivere nell'atto del dare alla luce, però è comunque una gioia ritrovarsi poi questa creatura tra le mani sia a modo di riflettere intorno a quanto il nostro Dio è grande. Quello è un miracolo, pensate un po'. Da un piccolo seme si sviluppa questa cosa nel grembo materno. Nove mesi e poi viene fuori questo fagottino. È lì che ci si perde, si è ubriachi, non si capisce più niente, si diventa rimbambiti. Poi in base alla fase di vita in cui ci si ritrova, prima diventano mezzi rimbambiti i genitori, poi invece quelli che sono i nonni diventano totalmente rimbambiti. E' una gioia avere questa creatura tra le mani, è un momento gioioso, per questo quando una sola anima viene al ravvedimento, sta scritto, gli angeli fanno festa in cielo, è un momento di gioia e dovrebbero essere anche per noi. Alleluia! È un momento di gioia. Oh, arriva la mia seconda nipotina, il mio terzo nipotino. Poi c'è chi ha proprio figli che hanno preso alla lettera quello che il Signore disse nella Genesi, andate e moltiplicatevi per tutta la terra. E hanno cinque, sei, dieci nipoti proprio, perché hanno preso proprio alla lettera quella scrittura. Dio li benedica. E' un momento gioioso, ma non finisce tutto là, perché se quella meravigliosa creatura rimanesse lì, così piccola, bella, così com'è, e non cresce più, le cose sono due, o che è morto, oppure c'è qualche grave anomalia. Amen! E' normale, è necessario che quel bambino cresca, sviluppa, e appunto, quindi non si ferma solo alla nascita, ma si sviluppa, comincia a crescere. E così come ho sentito in altri insegnamenti, quel bambino, quando nasce quel bambino, è proprio perfetto. Eh? Dio, ma quanto è bello, anche il più brutto dei ranocchi, ma è bellissimo! E deve essere così, perché ogni genitore... Sapete, la natura fa brutti scherzi, però per i propri genitori è quella creatura la più bella che c'è. Proprio c'è quel legame particolare, è un'emozione speciale, è un'emozione speciale, ma si dice che è perfetta, eppure non sa camminare. Eppure non può mangiare cibo solito, provate a dargli una bistecca ad un bambino appena nato, lo farete morire. Amen! Provate a dargli un bel pezzettino, non è anche tanto grosso, un pezzettino di fiorentina a un bambino appena nato. Eh? Probabilmente morirà soffocato, perché non ha denti per poter masticare, e ancora il suo corpicino non è pronto per poter digerire quel cibo solido, a differenza di un adulto, o comunque di un bambino un po' più grande, che è già più sviluppato, ed è capace di mangiare cibo solido. Ecco perché certe cose, spiritualmente parlando, non vanno dette o in sé, a forza gli si fa mangiare ad un appena nato, gli si cerca di far mangiare la fiorentina, lo ammazzerai! E dai, mancia la fiorentina, dai, dai, mancia, mancia, e mancia! La Bibbia dice così, sapete i pulpiti mobili che ci sono, contro cui il pastore giustamente ha predicato contro più volte, perché non ci devono essere pulpiti mobili. L'insegnamento e la predicazione della parola deve venire solo da una direzione e non è necessaria che ve la indichi. Lasciate che l'insegnamento sia fatto da chi è preposto a farlo, perché è Dio che sceglie. Amen. E quindi, dai, così questo non si fa, quest'altro non si fa, così non ti devi vestire, così non devi fare. Ed è insensato. E come appunto cercare di dare questa fiorentina a quella povera creatura? Quando quella piccola, indifesa creatura ancora deve bere solo latte. quel buon latte materno che non è sostituibile da nessuna cosa moderna. Amen. Da nessuna cosa moderna. Oh, sì, adesso multivitamine, questo, quello, quell'altro, si fa, questo, è come se fosse. No, no, non è come se fosse. Ma non voglio entrare in questo discorso per non scaldare gli animi. Ah, sì, perché... No, lasciamo perdere. Ma non c'è niente. il latte. Il bambino piccolo ha bisogno del latte. Quindi la nuova creatura ha bisogno del latte che gli viene dato, viene somministrato per mezzo della parola di volta in volta. E sapete, Dio ha un modo particolare tramite i canali ufficiali nel somministrare la parola. Il buon latte della parola. E delle volte, sapete, al neonato spirituale tappa pure delle orecchie. perché magari in quella determinata circostanza non è il momento che lui ancora senta o lei ancora senta quella determinata cosa. E tappa le orecchie in qualche modo. Dice, ah, ma cosa stai dicendo? Mi viene in mente la testimonianza della sorella Gabriela Giacalone quando faceva ancora parte ai tempi dell'uomo paleolitico di questa chiesa. E' giovane la sorella Gabriela Giacalone. Attenzione, giovane. non andate a dirgli che io ho detto. E lei non so da quanti anni ma erano comunque pochi anni, ricordo questo, pochi anni che era in chiesa e si era parlato era stato insegnato più volte da questo pulpito nel corso di quei pochi anni tra le tante cose intorno alla decima ma ogni volta che si parlava della decima è come se lei non sentisse quella parola e quando finalmente quel giorno sentì questa parola decima e sentì cos'era questa decima rimase scioccata e andò credo dal pastore a dire ma come mai non me l'hai detto prima come no l'ha insegnato Dio ha i suoi modi vedete non siamo noi che dobbiamo cercare di aspetta allora ti dico io come ti devi comportare non devi fare questo non devi fare quello ti devi stare così non ti devi stare così mi raccomando no lasciate che sia Dio a fare la sua opera tramite l'allattamento della parola e quel bambino crescerà in maniera salutare e sapete ognuno ha i suoi tempi di crescita perché non tutti i bambini arrivati ad una certa data cominciano a camminare al sesto mese spaccato cominciano a dare tutto il primo passo no non funziona così poi anche ci sono determinate cose per cercare di aiutarli per cominciare a camminare allora si è quasi indottrinati dai pediatri tutto quello che il pediatra dice mi raccomando è Bibbia eh allora metteteli così così cominciano a gattonare in questo modo e cominciano a camminare prima io ho fatto inizialmente tutto quello che mi diceva la pediatra per farlo gattonare ma non c'era potenza umana di fare gattonare questa creatura mettilo così devi fare cos'ha e cos'ha non ha mai gattonato mai gattonato perché è la natura stessa insegna noi cerchiamo di schematizzare tutto ma poi la natura stessa che insegna lo fanno loro in maniera naturale in maniera naturale e quindi lui il suo modo di gattonare era se riesco a farvelo vedere lui stava praticamente seduto per terra con una gamba così e si trascinava così provavamo a metterlo in ginocchio come ci aveva detto la pediatra a quattro zampe e i pianti a non finire allora a quel punto avevo detto guarda è inutile che facciamo queste torture a sto povero bambino quando sarà il momento è arrivato il momento in cui ma non tutti hanno un momento specifico in cui cominciano a camminare per questo bisogna lasciare che il bambino spirituale cresca cresca lascia che sia il latte della parola che di volta in volta lo faccia crescere e comincerà a maturare e un po' di latte oggi un po' di latte domande poi arriverà il momento dello svezzamento che non spetta a nessuno di svezzare il bambino spirituale ma quando arriverà il momento dello svezzamento comincerà a mangiare quel cibo un po' più solido farà un po' di fatica perché i dentini sono ancora quei dentini che cominciano a venire fuori pian pianino i dentini da latte e pian pianino comincerà a mangiare e a crescere e vedremo lo sviluppo di questa meravigliosa creatura che prima non sapeva parlare non sapeva camminare non sapeva mangiare eppure era perfetta e man mano comincia a imparare a parlare la prima parola che mio figlio ha detto la parola più bella che poteva dire era e che ha imparato papà non ci credete vero? e lo so perché non ci credete perché voi mamme ha vantato sempre il primato ha detto mamma invece il mio ha detto come prima parola papà una a uno palla al centro però ha imparato bene a chiamare la notte sempre mamma Dio gli ha dato saggezza sin da piccolissimo la notte mamma glory glory hallelujah quindi l'evidenza iniziale è quella di parlare in altre lingue secondo che lo spirito dà ad esprimersi e non secondo quello che certi individui cercano di insegnare l'ho detto credo in qualche altra occasione anni fa ho visto un video dove era una sorta di conferenza per soli bambini e c'erano queste chiamiamole insegnanti che erano lì ad insegnare ai bambini come parlare in altre lingue ma ci rendiamo conto non c'è niente di più diabolico questo non è da di o quindi l'evidenza iniziale secondo che lo spirito dà ad esprimersi e noi lo possiamo vedere dice ma perché ci sono quelli che dicono ah sì ma voi che dite così ma dove sta scritto sta scritto nel libro degli atti lo vediamo nel capitolo 2 degli atti quando cominciarono a parlare in altre lingue nel giorno della Pentecoste lo vediamo nel capitolo 10 degli atti e lo vediamo ancora nel capitolo 19 degli atti amèn nel capitolo 10 la conversione di Cornelio tutti quanti ci la ricorderemo la conversione di Cornelio vero? quando Pietro fu mandato da Dio da Cornelio in altre parole per fare uno studio biblico e mentre facevo lo studio biblico ancora non aveva finito di fare lo studio biblico e la parola di Dio dice che lui e quelli della sua casa cominciarono a parlare in altre lingue quindi quelli che erano insieme a Pietro che erano giudei di quelli proprio rimasero sbarorditi perché dei non dei gentili erano stati riempiti con lo spirito santo e riconobbero questo perché parlavano dice la scrittura in altre lingue ancora vediamo la stessa cosa nel capitolo 19 del libro degli atti dove Paolo essendo ad Efeso parla incontra alcuni discepoli e disse loro avete voi ricevuto lo spirito santo da quando avete creduto e loro dissero non abbiamo mai sentito neanche di uno spirito santo erano stati battezzati nel battesimo di Giovanni disse il battesimo di Giovanni era un battesimo di ravvedimento ma per credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui e allora furono battezzati nel nome di Gesù Cristo quindi anche qui la nascita di acqua è solo possibile mediante il battesimo nel nome di Gesù Cristo e poi dice che sempre nel capitolo 19 che l'Apostolo Paolo impose loro le mani e cominciarono a parlare in altre lingue ricevettono lo spirito santo quindi quella è evidenza iniziale inconfutabile dell'essere riempiti con lo spirito santo ma tutto non inizia e finisce lì sapete fin troppe volte si considera quello come un punto di arrivo la nuova nascita come un punto di arrivo ma è tutt'altro la nuova nascita è un punto di partenza non un punto di arrivo perché nel corso degli anni ho visto persone che volevano ricevere lo spirito santo perché magari l'avevano ricevuto tizio e Dio poi li ha riempiti o i genitori che incidono i figli dai forza forza l'ha ricevuto quello 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 quell'altro io per esempio l'ho ricevuto in una conferenza in cui tanti bambini ricevettero lo spirito santo e c'era un po' quella cosa lì è normale tra bambini mi l'ha ricevuto lo voglio ricevere anch'io la sincerità e tanti bambini in quella conferenza ricevettero lo spirito santo tra cui anch'io ma quello non è il punto di arrivo perché poi una volta che ricevono lo spirito santo ecco come se fosse già tutto a posto no quello è il punto di partenza e questo è quello che succede purtroppo nella vita di tanti cosiddetti cristiani che considerano quello è il punto di arrivo adesso ho ricevuto lo spirito santo sono nato di acqua di nuovo di acqua e di spirito quindi ho tutte le carte di regola sono a posto non devo fare più niente sbagliato quello è il punto di partenza e non di arrivo punto di partenza e non di arrivo è necessario che lo spirito rimanga vivo dentro di noi il fuoco dello spirito ha bisogno di rimanere vivo dentro di noi affinché possa lavorarci ammodellarci e affinché noi possiamo portare del frutto perché ci sono delle evidenze nella persona che ha vivo lo spirito santo dentro di sé c'è solo un modo per mantenere vivo lo spirito santo dentro di sé perché si può ricevere lo spirito santo e poi subito dopo è già spento è necessario mantenerlo vivo è l'unico modo per mantenere quel fuoco vivo è mediante l'ossigeno della preghiera pregando ogni giorno è l'unico modo per mantenere il fuoco dello spirito santo acceso alimentandolo con l'ossigeno dello spirito santo alleluia ed è inevitabile che in questo modo si manifesti si manifesti il frutto dello spirito perché il frutto dello spirito non è l'evidenza iniziale del ricevere lo spirito santo e qui come dice il detto che casca l'asino perché si può ricevere lo spirito santo l'evidenza iniziale è quella di parlare in altre lingue ma il frutto dello spirito non è un'evidenza iniziale è un'evidenza che avviene nel tempo avviene dopo nel tempo perché l'individuo comincia ad essere forgiato ammodellato dallo dallo spirito santo dentro di lui ed è ed è un processo continuo ecco perché lavori in corso ognuno di noi dal più grande al più piccolo da chi ha 45 anni o 50 di fede a chi ne ha solo uno di fede ha continuamente sulla propria vita se noi siamo realmente arresi al Signore e abbiamo quello spirito continuamente vivo dentro di noi abbiamo una scritta lavori in corso lavori in corso e fino a quando saremo su questa terra ci sarà sempre quella segnaletica odiosa che magari noi vediamo per le strade e poi rimaniamo come mi è successo a me l'altro giorno mezz'ora bloccato in tangenziale e c'era mio figlio che mi aspettava a scuola lavori in corso poi non ho visto dove questi lavori in corso fossero magari il punto nevralgico dal punto nevralgico non ci sono passato ma noi siamo continuamente con lavori in corso Dio continuamente quando noi se noi gli lo permettiamo continua a lavorare in noi giorno dopo giorno giorno dopo giorno giorno dopo giorno affinché il frutto del dello spirito sia manifestato abbiamo letto che il frutto dello spirito è amore è gioia è pace è pazienza gentilezza bontà fede mansuetudine autocontrollo quando si viene al signore si individui sporchi con tanti tante cose che non vanno nella propria vita da ogni punto di vista ma quando noi ci pentiamo quando noi scendiamo alle acque nel nome di Gesù Cristo e tutti i nostri peccati vengono lavati via vengono rimossi sotterrati sepolti e quando veniamo riempiti con lo spirito santo quindi riceviamo nuova vita ma è necessario che lo spirito santo appunto faccia la sua opera dentro di noi se non fa quell'opera dentro di noi se quello spirito quel fuoco si spegne saremo fermi a quell'evidenza iniziale e quell'evidenza iniziale in in se stessa non vale a nulla perché se rimane solo appunto una data che noi abbiamo scritto sulla nostra bibbia io ho ricevuto lo spirito santo il e sono stato battezzato il ed è finito tutto là quello non serve a nulla è una una data storica ma se rimane semplicemente quella data storica non serve a nulla ne abbiamo viste tante di persone nel corso degli anni venire anche per la prima volta in chiesa ed essere riempite con lo spirito santo e non vederle mai più quella è una una nascita con morte come quando un bambino nasce e muore subito dopo stessa cosa dal punto di vista spirituale arriva ma dove sono finiti evidentemente non hanno avuto volontà di voler mantenere quello fuoco vivo amén quindi non può rimanere un'esperienza storica ma è necessario dell'altro è necessario che si porti frutto perché è questa la volontà del nostro padre celestiale amén e l'abbiamo letto in Giovanni dice io sono la vera vita il padre mio è l'agricoltore ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via ma ogni tralcio che porta frutto lo pota affinché nessuno affinché ne porti ancora di più questa è la nuova riveduta che traduce in questo modo mi piace questa traduzione ogni tralcio che porta frutto lo pota affinché ne porti ancora di più l'essere potati delle volte fa male anzi direi sempre fa male perché io cerco di immedesimarmi in quell'albero che magari a cui noi andiamo con dei forbicioni con una bella forbice adatta a potare e se quell'albero l'albero potesse parlare chissà quante ce ne direbbe ma cosa mi fai ma lo facciamo per il bene dell'albero stesso affinché cresca meglio affinché si robustisca cresca un po' più in alto porti ancora più frutto ed è quello che Dio fa con noi se siamo dei tralci che portiamo frutto lui a un certo punto ci pota affinché ne possiamo portare ancora di più perché questa è la sua volontà e qualcuno dice sì vabbè oramai ho vissuto la mia vita ho 80 anni che hai a fare più che cosa devo fare è volontà di Dio che tu porti frutto fratello che tu porti frutto sorella secondo quella che è la fase della tua vita ma non è volontà di Dio per nessuno a prescindere dall'età che si ha di essere spiritualmente sterili ma tutti quanti dobbiamo essere spiritualmente fruttiferi tutti quanti dal più dal più piccolo al più grande quindi dice ogni traccio che è in me non porta frutto lo tolgo via ma quello che porta frutto lo poto affinché ne porti ancora di più poi voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziato dimorate in me e io dimorerò in voi come il traccio non può da sé portare frutto se non dimora nella vita e così neanche voi se non dimorate in me io sono la vita voi siete i tralci chi dimora in me e io in lui porta molto frutto quindi se non stai portando frutto c'è una domanda da porti sto dimorando io in lui e sta dimorando lui in me perché è inevitabile che si porti frutto se noi stiamo dimorando in lui e se lui sta dimorando in noi è la sua parola dimorate in me e io dimorirò in voi come il traccio non può da sé portare frutto se noi tagliamo un rametto d'albero e lo poggiamo sul tavolo quel rametto non porterà mai frutto abbiamo bisogno di essere attaccati alla vite io sono la vite dice Gesù voi siete i tralci chi dimora in me io in lui porta molto frutto poiché senza di me non potete fare nulla senza di me non potete fare nulla non gonfiamoci mai la testa pensando oh se non fosse stato per me non sarebbe successo questo quest'altro o questa quest'altra anima non sarebbe venuto a Cristo non sarebbe venuto a Cristo non è per noi stessi che è avvenuta quella determinata cosa ma è per la potenza di Dio in noi è perché noi dimoriamo e lui e lui dimora in noi allora sì che portiamo frutto ma non portiamo frutto per le nostre di capacità per quello che noi possiamo essere da noi stessi ma è grazie a lui che noi portiamo frutto alleluia ecco perché quei predicatori che pensano che c'è un potente risveglio in atto perché sono loro lì a predicare questa qua è follia non è perché ci sono loro a predicare che succede questo succede quello ci sono persone che sono miracolate molti altri che ricevono lo spirito santo chissà quali altri segni prodigi perché se noi ci concentriamo su queste cose allora cominceremo a fare questi ragionamenti stolti che non sono da parte di Dio perché ogni cosa che avviene avviene per la potenza di Dio a me e se non avviene per la potenza di Dio allora c'è qualcosa di serio che non va se dimorate in me le mie parole dimorano in voi scusate torniamo andiamo indietro verso 6 se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca ancora una volta non è volontà di Dio che ci siano tralci secchi nella casa del Signore non è volontà di Dio ma è volontà di Dio che ogni tralcio porti frutto porti frutto perché quei tralci secchi arriverà il momento in cui così come sta scritto comincerà a fare raccolta di questi tralci secchi e poi questi tralci secchi li getterà nel fuoco affinché siano bruciati quindi è volontà di Dio che tutti portino frutto dobbiamo rimanere attaccati alla vita attaccati alla vita non attaccati a quella che era stato un tempo l'evidenza iniziale ma dobbiamo rimanere attaccati alla vita mi piacciono le parole del salmo 92 sto per concludere dal verso 12 al verso 15 sta scritto il giusto fiorirà come la palma crescerà come il cedro del Libano e poi verso 13 quelli che sono piantati nella casa dell'eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio porteranno ancora frutto ehi giovani giovani anziani aprite bene le orecchie e questa parola non l'ho scritta io comunque porteranno ancora frutto nella vecchiaia se non l'avete mai letto è il salmo 92 verso 14 porteranno frutto ancora frutto nella vecchiaia e saranno prosperi e verdeggianti per proclamare che l'eterno è giusto egli è la mia rocca e non vi è alcuna ingiustizia in lui quelli che sono piantati nella casa dell'eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio quelli che sono piantati proprio quelli che non perdono occasione di essere nella casa del Signore che per loro è importante ogni qualvolta che vi sono le porte della casa del Signore aperte di essere nella casa del Signore sono piantati nella casa del Signore e non è una semplice presenza ma è un qualcosa di più sono letteralmente piantati e portano frutto anche nella vecchiaia sono prosperi e verdeggianti alleluia 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 piantati nella casa dell'eterno oh io fui felice quando mi fu detto andiamo nella casa del Signore oh no 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 non disse oh me un'altra volta oggi piove non andiamo nella casa del Signore oh il mal di pancino no no non andiamo nella casa del Signore mio figlio deve fare i compiti non andiamo nella casa del Signore mia suocera fa il compleanno non andiamo nella casa del Signore c'è la festa di Gummari Pippino non andiamo nella casa del Signore ogni scusa è buona per non andare nella casa del Signore tralci secchi che varranno raccolti a meno che non decidano di essere riattaccati rinnestati nella vita per essere poi bruciati alleluia in Giovanni capitolo 3 verso 5 Gesù disse in verità in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo di acqua di spirito non può entrare nel Regno dei Cieli e questo ve l'ho già citato fin troppo spesso sopprimiamo lo spirito e quindi la potenza o il potenziale di cui Dio ci ha riempiti seppur inconsciamente spesso non diamo il giusto al valore dello spirito di Dio in noi perché abbiamo questo concetto che non è un concetto giusto non è un concetto appropriato intorno allo spirito santo ovvero questa esperienza iniziale che abbiamo vissuto per quelli che siamo nati di nuovo di acqua di spirito ovvero di essere stati battezzati alle acque nel nome di Gesù Cristo e di avere ricevuto lo spirito santo con l'evidenza iniziale del parlare in altre lingue secondo che lo spirito dà ad esprimersi e abbiamo questo concetto molto limitato dello spirito santo quando invece in atti capitolo 1 verso 8 leggiamo che Gesù disse ai suoi discepoli ma voi riceverete potenza quando lo spirito santo verrà su di voi e poi e mi sarete testimoni quindi ma voi riceverete potenza potenza noi quando riceviamo lo spirito santo non stiamo non stiamo ricevendo una lingua è questo che deve essere schiarito è una volta per tutte quando riceviamo lo spirito santo non stiamo ricevendo una lingua quello che lo spirito dà da esprimerci è l'evidenza del fatto che siamo stati riempiti con lo spirito santo lo spirito santo di per sé è potenza di Dio in noi la presenza di Dio che è potenza dentro di noi quindi immaginate quale grande potenziale ognuno di noi nessuno escluso di quelli che siamo nati di noi di acqua di spirito abbiamo e di quello che Dio può fare non solo in noi ma anche per mezzo di noi abbiamo questo concetto molto limitato intorno allo spirito santo proprio confiniamo è come se facessimo questa sorta di cerchietto piccolo intorno a questa esperienza tutto è iniziato e finisce là frequento regolarmente la chiesa la decima faccio questo questo e quest'altro vivo questa buona bella tradizione siamo tra di noi tranquilli sereni qua e tutto no 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 c'è qualcosa di molto ma molto più grande che Dio vuole fare in noi e per mezzo di noi non inizia e finisce qua la nostra storia spirituale ma deve andare molto oltre molto oltre non è volontà di Dio che rimaniamo incollati a questi quattro banchi e veniamo ai tre servizi settimanali tutto inizia e finisce là no vuole che ognuno di noi porti frutto vuole che ognuno di noi sperimenti la vera potenza di Dio dentro di noi affinché possiamo vedere la sua gloria alleluia affinché possiamo vedere la sua gloria potenza potenza quello che noi leggiamo che avvenne dal giorno della Pentecoste in poi nel libro degli atti non è qualcosa di esclusivo per quei giorni no 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 è una realtà che viviamo ancora oggi anche se dico in piccola parte ancora per poco perché sperimentiamo quello che hanno sperimentato nel giorno della Pentecoste ovvero riceviamo il dono dello Spirito Santo però non abbiamo ancora visto quello che Dio sta per fare e che sarà di proporzioni decisamente maggiori rispetto a quello che noi di cui leggiamo nel libro degli atti ma finché questo avvenga è necessario che ognuno di noi sia col fuoco ardente dentro di sé mi viene in mente l'altare della patria per quanti conoscete la città di Roma sicuramente se siete stati a Roma sarete andati a vedere l'altare della patria perché se non ci siete andati vergogna è uno dei monumenti principali da visitare a Roma è un monumento bellissimo e si vede quel fuoco che non si spegne mai che devono mantenere sempre acceso ci sono le guardie lì per assicurarsi che quel fuoco non venga spento da nessuno e che rimanga sempre acceso e così deve essere lo Spirito Santo dentro di noi acceso giorno e notte giorno e notte giorno e notte perché c'è l'ossigeno della preghiera che alimenta quel fuoco che continuamente quel fuoco consumante che brucia ogni bruttura ogni bruttura di noi e ancora lo Spirito Santo viene identificato come fiumi di acqua viva e dal vostro seno disse Gesù sgorgeranno fiumi di acqua viva e quell'acqua che disintossica che ha bisogno di fluire costantemente dentro la nostra vita affinché possiamo essere costantemente lavati purificati da qualsiasi impurità da qualsiasi tossina che intossica la nostra anima e affinché il frutto dello Spirito possa essere palesato a chiunque che sta intorno a noi a partire dalla nostra piccola Gerusalemme la nostra famiglia un po' più oltre i nostri amici i nostri colleghi hanno bisogno di vedere l'evidenza che non è evidenza iniziale è l'evidenza del frutto dello Spirito dentro di noi ecco perché quando c'è chi dice proclama i quattro vendi io sono un pentecostale sono un cristiano apostolico pentecostale e vive in maniera non conforme alla parola di Dio sta buttando fango sulla parola di Dio su quella che è l'identità vera della Chiesa amén perché se non è evidente il frutto dello Spirito ma scusa ma tu sei dici di essere però parli così fai questo rubi freghi il collega guardi ogni mosca femmina che passa dove è il frutto dello Spirito dove è l'evidenza dello Spirito Santo dentro di noi oppure sembri una nuvola nera dovunque si incubisce è vero ci sono anche delle persone tra di noi a cui non ho mai visto un bel sorriso di quello sincero quando questi individui entrano in un qualche luogo tutto è come se si chiudesse il riccio si sentono pure i tuoni i lampi si cominciano a percepire appena aprono la bocca e poi appena quelle persone escono da quell'ambiente subito sorge il sole la gioia del Signore è uno una delle evidenze del frutto dello Spirito che come quel frutto multivitaminico fanno i succhi multivitaminici perché mettono insieme tutte le frutte di questo mondo invece lo Spirito Santo è completo di suo non ha bisogno di nessuna aggiunta è un frutto completo quello che si manifesta quando siamo ripieni dello Spirito Santo quando lo Spirito Santo è vivo dentro di noi e una delle caratteristiche di questo frutto è la gioia del Signore qualcuno di voi ha bisogno di cantare a casa dalla mattina alla sera dal sorgere del sole al tramonto dello stesso la gioia del Signore è la fino a quando non cominciate a sorridere mettetevi davanti allo specchio la gioia sapete ma non funzionerà solo questo è necessaria la preghiera perché se siete degli individui così cubi dove andate sembrate dei dei cani pronti per mordere qualcuno faccia oppure quasi quasi ringhia faccia se volete quei cani che ringhiano anche di quelli piccolini sono piccoli piccoli tutto un abbaiare la gioia del Signore la gioia del Signore quella gioia inspiegabile quella gioia inspiegabile che solo Dio può dare la gioia la pace quella pace di cui di cui parla l'Apostolo Paolo sempre l'Apostolo Paolo in Filippesi che supera che sorpassa ogni intelligenza quella pace che non riusciamo riusciamo a comprendere con la nostra mente umana che è un frutto dello Spirito vi sarà capitato sicuramente almeno una volta di ritrovarvi in una qualche situazione non affatto piacevole eh vi trovate in mezzo alla tempesta eppure sentite quella pace interiore e delle volte magari ci chiediamo ma c'è qualcosa che non va con me o che cosa è la pace del Signore che è lì che appunto viene fuori l'evidenza del frutto dello Spirito quella pace che supera ogni intelligenza che supera ogni razionalità che non possiamo capire con la nostra razionalità eppure ce l'abbiamo dentro perché ci siamo assicurati che quel fuoco fosse continuamente alimentato dall'ossigeno della preghiera e quindi anche se stiamo se stiamo in mezzo alla tempesta sentiamo quella pace e ogni tanto pure riusciamo a cantare un canto di gioia al Signore e magari quelli che sono intorno a noi vedono che stiamo nel mezzo della tempesta e ci dicono ma questo qua è andato fuori di mielone no 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 io ho lo Spirito Santo e il suo frutto non può essere altro che manifestato manifestato la pazienza la pazienza santa pazienza santa pazienza sapete in base alle nostre personalità e ognuno di noi ha un tipo di personalità e non c'è nessuno che è superiore a nessun altro l'essere perfetto non esiste sul pianeta Terra pertanto se pensi di essere perfetto sempre al di sopra delle parti mi dispiace per te sei un povero illuso o una povera illusa vedo che siete felici quindi quando ci ritroviamo in determinate situazioni è inevitabile che in un modo o nell'altro gli spigolucci della nostra carne si manifestino è perché così come dice l'Apostolo Paolo è una continua lotta ims tra la carne e lo spirito la carne e lo spirito l'una che vuole avere il sopravvento sull'altra l'unico modo per far sì che lo spirito abbia il sopravvento è alimentare lo spirito perché se noi alimentiamo i desideri della nostra carne quindi se noi facciamo a meno di preghiera perché noi siamo esseri spirituali noi non abbiamo bisogno di pregare ogni santo giorno e sembra preghiera 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 oh io non ho tempo di pregare è come dire io non ho tempo per mangiare bene hai i giorni contati meno uno meno due meno tre meno quaranta ora pronobis e celebriamo il tuo funerale spiritualmente la stessa cosa io non ho tempo di pregare scatta il conto alla rovescia meno uno meno due meno tre e comincia ad essere sempre più evidente che quella persona non sta alimentando il fuoco dello spirito santo meno dieci meno trenta e ancora fino al punto che poi muore muore diventa un tralcio secco tra i banchi di una chiesa sterile senza alcun frutto e quindi ci sono situazioni in cui e quando la carne fa capolino quando mi scappa la pazienza c'è quel campanellino della lama anzi quella sirena io ho la sirena nel mio cervello che stai facendo non essere stupido 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 ricorda che sei un cristiano a nessuno mai successo c'è quella vocina interiore che dice ma non pensi di aver esagerato un pochettino forse hai bisogno di chiedere scusa a tizio o a Caio a tua moglie a tuo figlio a tuo padre a tua madre il lavoro dello spirito eh quando la carne viene fuori vuole vuole far vedere i propri muscoli lo spirito santo ehi ehi ma che fai è un lavoro continuo vedete se non avessimo lo spirito santo dentro di noi diventeremmo nuovamente dei mostri e viviamo purtroppo viviamo in una società di mostri e hanno bisogno di avere quella luce che i figli di Dio con cui i figli di Dio splendono luce luce pazienza gentilezza ormai la gentilezza è fuori moda e l'educazione io lo dico sempre parte da casa ogni giorno quando accompagno mio figlio a scuola ripeto sempre le stesse cose infatti già quelle parole ce le avrà marcio nel cervello ma fino a quando non avrò certezza che quelle parole già sono scolpite e diventerà un suo comportamento automatico le sentirà sempre mi raccomando appena entri saluta la maestra saluta l'insegnante perché adesso non insegnano più ai bambini perché ancora ai miei tempi e non faccio parte dell'era del paleolitico le insegnanti insegnavano che quando entravano in classe tutti quanti dovevano scattare all'impiedi buongiorno maestra buongiorno professore adesso non lo insegnano più e sapete perché la colpa e parlo ovviamente in generale è di noi genitori dell'era moderna e queste povere maestre che non sono più tutelate i professori sono in punta di piedi devono stare attento fino a ieri a Mascoluccia ho letto che ieri un bambino di sei anni ha dato un calcio ad un insegnante l'ha fatto rotolare per le scale e l'ha calciato in un ginocchio che era stato operato neanche da tanto tempo e i genitori supercivili non hanno fatto altro che rincarare la dose hanno cominciato ad inveire contro la maestra e contro altri insegnanti il preside che stavano intervenendo per calmare le acque a non fare spettacolo e quella è finita ricoverata in ospedale chi ce l'ha la colpa ovviamente i genitori idioti e quindi questi maestri sono lì i genitori cristiani se i vostri figli vengono rimproverati a scuola perché non si comportano bene non andate come gli altri idioti subito ad attaccare l'insegnante ma lei come si permette il mio figlio lasciate che loro facciano il loro lavoro poi è chiaro se subono certi limiti che non devono superare quello è un altro discorso ma lasciate che facciano il loro lavoro e quindi non insegnano più mi raccomando saluta e io l'ho visto qualche mattina che magari si era dimenticato passava la maestra poi tornava indietro maestra buongiorno oh buongiorno torni gentilezza oramai è fuori di moda ma è l'aprire e far passare prima una donna la porta per una donna invece se ne vedono di cafoni che si mettono davanti poi magari donne pure anziane si mettono davanti boom e sbattono la porta eh oppure si vede quella povera anziana in difficoltà ah io non ho tempo di una volta ancora vivevo a Milano vedi ero a sbrigare delle cose e non avevo neanche particolare fretta ero sesto san giovanni mi trovavo e vedi quest'anziana poveretta in mezzo alla strada col carrello super carico altri mi avvicinai con tutte le precauzioni del caso perché non volevo spaventarla disse signora non è che per caso vuole essere aiutata a portare la spesa oh sì grazie e non stavo cercando occasione per intascare qualche banconota anche se ne avevo di bisogno l'accompagnai a casa sperando che non avesse paura che io la derubassi accompagnata a casa mi voleva dare no 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 signora grazie perché ho pensato e se quella fosse mia moglie o fosse mia mamma o fosse mia nonna la vedo in pericolo in mezzo alla strada vorrei che qualcuno la potesse aiutare gentilezza gentilezza una 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 delle evidenze del frutto dello spirito pazientate cinque minuti bontà eh bontà conoscete gli individui che hanno le braccia più corte di tutti gli altri quando è il momento di dare e non parlo necessariamente dal punto di vista economico sono soffrono di stitichezza bontà fede se lo spirito è vivo la fede è sempre più forte sempre più forte non si vacilla neanche nel mezzo della più orribile delle tempeste neanche in mezzo di un uragano perché la fede è forte perché è stata continuamente alimentata dallo spirito santo che assolto è stato alimentato dall'ossigeno della preghiera fede mansuetudine una volta venendo in chiesa io ho fatto finta di non vedere di non sentire c'era una coppia che arrivava e lei che si stava masticando il marito cretino con tutte le ragioni che avrebbe avuto mansuetudine ora tutti quanti tutti quanti abbiamo i nostri giorni un po' così però c'è sempre quel campanellino ehi ma cosa hai detto ehi ma cosa hai fatto ehi ma come ti sei comportato il frutto dello spirito ehi ma come ti sei comportato siamo sempre lì subito perdere le staffe non si capisce più niente basta quel moscerino che poggia sul naso e nella parte sbagliata del naso che succede finimondo autocontrollo 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 e questo viene sempre dal lavoro dello spirito santo sempre quella voce interna che man mano che noi coltiviamo la nostra relazione con il nostro signore è sempre più chiara impariamo a riconoscere la voce del signore quando quando stiamo facendo dicendo qualcosa che non dovremmo fare non dovremmo dire anche se non è così grave non necessariamente è questione di salvezza o perdizione però c'è quella quella dolce voce che ci dice non è così che devi comportarti non è così che devi parlare e non è così che devi reagire il frutto dello spirito alziamoci in piedi Romani 15-13 ora il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia e pace nel credere affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello spirito santo gioia e pace e speranza in abbondanza per la potenza dello spirito santo e ancora in primo pietro leggiamo della gioia ineffabile e gloriosa che possiamo avere solo per mezzo dello spirito santo alleluia lavori in corso non un punto d'inizio la nuova scusate un punto d'arrivo la nuova nascita ma un punto di partenza punto di partenza punto di partenza io sento gioia 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 dentro al mio cuore sì dentro al mio cuore sì dentro al mio cuore io sento gioia 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 dentro al mio cuore sì dentro al mio cuore Sono felice, sono felice, così felice, io ho l'amore di Gesù nel cuore, sono felice, così felice, io ho l'amore di Gesù nel cuore. Sento il fuoco della pentecoste dentro al mio cuore, sì, dentro al mio cuore, sì, dentro al mio cuore. Sento il fuoco della pentecoste dentro al mio cuore, sì, dentro al mio cuore, Gesù, sono felice, così felice, io ho l'amore di Gesù nel cuore. Sento il fuoco della pentecoste dentro al mio cuore, Gesù nel cuore, sono felice, così felice, io ho l'amore di Gesù nel cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Gioia, 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 gioia dentro al nostro cuore. E poi pace, 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 dentro al mio cuore, sì, dentro al mio cuore, sì, dentro al mio cuore. Sono felice, così felice, io ho l'amore di Gesù nel cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Ricordo un collega, scusate, non ero un collega, era una delle persone con cui avevo a che fare nell'ultimo lavoro che ho fatto a Milano, era un classico napoletano. Un giorno, e lui non sapeva ancora cosa fosse io, dal punto di vista spirituale, dice, beh, quando vedo te sento quella pace. Cioè, ah, chi a me? Perché io sono un tipo molto sprint. Sento quella, che a prescindere da quella che è la nostra personalità, sia più o meno dinamica, c'è chi ha una flemma. Però ha comunque gioia, di quella gioia che è più rilassante. Invece c'è chi ha gioia, come me, che è un po' più... E poi c'è bisogno pure dell'individuo che è più così, per bilanciare. Perché, sapete, troppo dinamismo fa poi esplodere qualcosa. E ci vuole pure quello che è flemmatico, che però sembra la gioia di Gesù nel cuore. Sento quella pace, è il frutto dello spirito. Poi, successivamente, qualche tempo dopo, quando, parlando con altri colleghi, stavamo parlando intorno alla Bibbia, intorno a quello che credo e così via, dice, eh, lo sapevo io, ecco perché non ti giri mai quando passano... Guarda, 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 oh, giri, e giri, non è che fare, non ti giri, non ti giri. La pizza con un marone in coppa. Ecco perché c'era qualcosa, sapevo che c'era qualcosa di diverso in te. Eppure non ero andato col malloppone di opuscoli nello zaino quando andavo a camminare così, quando andavo al lavoro, o col bibbione sotto il braccio. No, semplicemente mi sforzavo e mi sforzo tutti i giorni di essere un testimone. E vedono, vedono, è inevitabile che vedano il frutto dello spirito, se noi alimentiamo lo spirito, lo vedono, lo vedono. Non c'è bisogno di andare in giro a carattere cupidale. Sono apostolico pentecostale! Udite, udite, udite! No, 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 no. Lo spirito santo dentro di noi, se è vivo, fa un lavoro molto più efficace di quell'aereo che vola con lo striscione per fare la pubblicità. Sono un apostolico pentecostale! Il frutto dello spirito. Il frutto dello spirito è carità. Questo, vecchi addiodati. Pace, allegrezza e benignità. Fede, pazienza e mansuetudine. La grande continenza e la bondazza. La messa è finita, potete andare in pace, no? Gioia. Inspiegabile gioia! Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Eppure sento questa gioia, questa pace, il frutto dello spirito. Vedete quanto benedetti noi siamo. No, 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 no. Non ho tutto quello che vorrei e tutto quello di cui penso di avere di bisogno. e delle volte veramente sembra che non ce n'è una che vada per il verso giusto ma sento la pace del Signore, sento la gioia del Signore il frutto dello Spirito Signore Gesù noi ti siamo grati per Grazie